Con questa riforma la sanità veneta esce dal medioevo ed entra nel rinascimento. Con queste parole il governatore Luca Zai assaluta l'approvazione del provvedimento dopo mesi di battaglia in consiglio regionale. È un mondo che sta cambiando. Quando c'erano 21 uils, c'era un motivo per avere 21 uils. Non c'era internet, non c'erano i fax, non c'erano i telefonini, gli smartphone, non si faceva telemedicina, non c'era tutto quello che c'è oggi. Oggi invece possiamo adeguare l'organizzazione a un mondo che è cambiato, che ci permette di entrare in un telefonino e prenotarsi una visita o sapere quante persone sono in sala d'aspetto di un pronto soccorso. Questa accade già in Veneto. Quanto a chi parla di taglie e ospedali che chiuderanno, precisa Zai, a smentisco categoricamente, i servizi resteranno quelli programmati nelle schede sanitarie e anzi verranno migliorati con la realizzazione del cup unico regionale. Queste sono leggende metropolitane e fantasia. Abbiamo 68 ospedali e restano quelli. Non ci sono licenziamenti. Ma c'è solo un efficientamento. È una macchina che se è efficientata può correre ancora di più ma dare soprattutto risultati al cittadino. Al cittadino interessano due cose. Non avere attese lunghe ed essere curato bene. E noi rispondiamo su questi due fronti. Si poteva fare meglio invece secondo il Movimento 5 Stelle che contesta in particolare i criteri per la determinazione delle nove ulse regionali che dal primo gennaio prenderanno il posto delle attuali 21. È una riforma che è servita solo alla politica e invece non si è mai, e sottolineo, mai parlato in tutta la riforma dei veri bisogni dei cittadini. Per questo noi abbiamo cercato di mettere al centro cittadino i veri bisogni, io penso alle liste d'attesa, penso a quelli che sono le necessità di migliorare sempre di più ed efficientare questa sanità. Purtroppo questo invece non è stato fatto e solamente si è pensato ai bacini elettorali come purtroppo abbiamo visto in Consiglio. La riforma approvata, conclude il Grillino, non ci resta che sorvegliare che la transizione avvenga correttamente e non ci siano disservizi. Abbiamo chiesto addirittura che venga ampliato e venga creato un nuovo servizio di controllo all'interno della sanità per controllare ogni singolo euro delle nostre tasse, come viene speso, dove viene speso e se viene speso al meglio per dare il miglior servizio in assoluto a tutti i cittadini veneti.